Cari ragazze e cari ragazzi, vi state avvicinando al momento di assumere una decisione importante nel passaggio dalla scuola superiore all'università. Si tratta di un momento unico e vi suggerisco di poppier ascoltando innanzitutto quello che voi desiderate, quello che voi immaginate, quello che voi volete per il vostro futuro. Ascoltate chi vi pare ma poi lasciate a voi l'ultima parola su quello che volete fare. Dovete essere i protagonisti della vostra scelta. Si tratta di una decisione che vi invito a prendere ascoltando e raccogliendo tutte le informazioni che vi servono ma anche seguendo il vostro cuore e le vostre inclinazioni personali. Non fatevi prendere dall'ansia che sia una decisione non modificabile. Di certo è una decisione importante ma nel percorso universitario avrete diversi passaggi nei quali potrete meglio definire e comprendere quello che vorrete fare dalla laurea alla laurea magistrale poi al master alle specializzazioni e ai dottorati di ricerca. L'importante per voi è che affrontiate questa decisione con serenità e con il piacere la voglia di iniziare una nuova vita. Come Università di Siena ci impegniamo a predisporre migliori percorsi di studio per la vostra formazione all'interno di una città universitaria che vanta otto secoli di storia a Siena nelle sue sedi. Siamo in una città che è il luogo perfetto per vivere l'esperienza universitaria, un'esperienza che resterà nella vostra vita e che nessuno schermo di computer potrà mai nel meno lontanamente replicare. Con l'università inizia l'esperienza di studio e di vita che sarà intensa nella quale conoscerete nuove persone da tutta Italia e dal mondo nella quale potrete vivere esperienze formative interessanti e coinvolgenti a Siena e nelle sue sedi nelle biblioteche e nei laboratori, nelle aule e nei programmi Erasmus all'estero. Questo vi renderà persone diverse e migliori. Questo aiuterà la nostra società ad avere persone migliori, formate e capaci di cambiare il nostro futuro. Vi aspettiamo come nostre studentesse e nostri studenti nei corsi di studio dell'Università di Siena. Vi invio finora il mio benvenuto all'Università di Siena. Grazie. Grazie.